Adesso facciamo questo compito assieme, come prima cosa ci connettiamo a TeamViewer, allora tu ti colleghi a me o io mi collego a te? Password, dammi la tua password. Allora la mia password è tutto minuscolo, W, Didi Domodossola, 62, 1, Jolly, J, ma mi ha dato qualcosa di... Ok, adesso siamo connessi. Aspetta che sono le finestre, perché sono inutili. Adesso io e te siamo connessi. Adesso, oggi... Che cosa? Dov'è Excel? Come si fa a trovare? Dobbiamo aprire questo file qua, Excel. Apri lo te. Aperto. Ok, va bene. E lento. Ingrandiscilo. Adesso fai una nuova cartella di lavoro, nuova. Aspetta, devo spostarmi. Eh? Perché non sei tanto, spostami. Nuova cartella è qua, amore, nuova cartella di lavoro. Adesso con questo... Vai, nuova, sì, quella lì, dai. Ok. Adesso noi... Aspetta, aspetta. Che pizza, il tuo... Il tuo... Ferma, non fare niente adesso. Ma la voglio arrivare, è stata bella. Aspetta, allora. Ma la voglio arrivare, è inutile. Ma no. Oggi ti devo stigare questo programma qua, che si chiama Excel. Allora, andiamo, innanzitutto, a prendere il tuo file, quello che mi hai mandato. Un attimo, eh? Aspetta, cosa hai pensato di... Un attimo, buon attimo, eh? Faccio io adesso, eh? I doni della morte parte 1. Amore, lascia stare i doni della morte adesso. Oh, non è che si è, no. Capì? Allora... Un attimo, eh? Salva, una copia. Aspetta, aspetta, li mettiamo giù. Un attimo, che adesso copio, salva e prendo questa immagine qua. Eh? E questa immagine qua... La schifo. La copiamo... Oppure sono sbagliato perché non devo farla. E la mettiamo su Excel qua. Attenta che la mettiamo su Excel. Vai te, incolla, col tasto destro. Ok. Adesso, mettila. Ok. Adesso, noi la facciamo qua, questa tabella. Ma che facile, facile, facile. Scrivi... Vedrai che trucchi che ci sono. Scrivi mese. Aspetta. Ma cosa fai uguale? Sì, è toccato. No, io non ho toccato niente. Eh, vai là dentro con due clic e cancella. Dai, cancella. Ok. Va bene, mese X. Perfetto. Adesso, guarda il primo trucco. Scrivi gennaio... Gen. Scrivi gen sotto. Gen. Ok. No, vabbè. Adesso sotto scrivi febbraio. Adesso ferma. Guarda il trucco di questa tabella. Ferma! Ferma! Ma no, adesso guarda. Il software, trascinando giù, riconosce tutti i mesi. Capito? Come l'altro? Eh, fallo te adesso. Ferma, attenta, fino all'ugio. Eh, fallo te, dai. Trascina giù. Vedi che non ti... No, devi prendere anche gennaio. Non me l'ha preso gennaio. Eh, prendi... Ecco, ok. No! Guarda bene. Ferma, ferma. Adesso lo faccio io. Ti sposti, poi prendi il quadratino e trascini il quadratino in giù. Prova. Eh, levalo, levalo. Come ti parla? Devo selezionarlo. No, devi... Guarda, ti faccio che tu dici via la tutto fa. Ferma! Ti faccio rivedere. È tutto apparentemente nella mia testa. Ne selezioni due. Ne selezioni due. Vedi, così. Ne selezioni due. Poi, quando ne selezionate due, ti sposti, prendi il quadratino e lo trascini in giù. Vai! Va a vedere. Prova. Sermo. E diminuisce la o la... Prova te adesso, dai. No? Non hai preso gennaio? No, ne hai prese quattro? Ne hai preso solo due? No? La stai spostando? Guarda... Fermo, fermo. Fermo. Non sta dietro. Scedì. Dai, prendi quelle due lì. Prendi quelle due. No, solo due le devi prendere. Sto facendo i combiti. Oh, brava. Ok. Guarda adesso. Fermo io. Ma faccio io. Se tu la clicchi qua, la sposti, vedi? Ma si sa prima. Tutto si sa che si sposta. Vedi, anche io. Eh, lo so. Però se tu la clicchi qua, invece, l'allunghi. Ok? Va bene. Va bene. Adesso, qua a fianco, scrivi. Cosa c'è scritto? Vuoi allargare le celle? Ferma, allarga la cella qui, guarda. Ah, sì, ma se lo so. Così, come lo sai? Così c'è chi sposta. Lo so che si fa, ma non so come. Adesso scrivi. Numero? Numero? Autovendute. Brava. No, è togliato. Vai. No. Non è. È difficilissimo lavorare con Autovendute. Ma non è vero, amore? No. Sta scrivendo Autovendute. Autovendute. Tra parentesi, Y. No, che va. Ma viva. Aspetta, 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 aspetta. Torna prima indietro qua, così ti ricompare il mese. Hai capito cosa ho fatto? Sì, fermo. Fai te, fai te. Ma viva. Vai. Mi sta fermo. Ok? Clicca due volte dentro. Devi entrare. Clicca due volte. Brava. Ok? Brava. Adesso scrivi i numeri. Sì. Dove cavolo? Scendi? Ah, ve lo devo farlo portare qui. Non vuole scendere. Sì, non c'è. Eh, va bene. Fai con la frecetta. Vai. Ah, ok. Allora, ti spiego un altro trucco. Guarda, un attimo. Quattro, guarda, eh? Sì, scrivo. Ok. No, è spostato. No, no, si sposta lui perché i numeri li fa da quella parte lì. Vai, scrivi. Poi lo cambiamo, non ti preoccupare. Dai, scrivi. Trenta. Vai. V. No, l'escrittazione, cosa fai? Ti aspetta tutto su una riga. 2 milioni e 375. Dai, vai. Entra. Entra. No. Scusa, amore. Sono io che tolgo, scusa. 35. E 40. Ok. Adesso guarda, ferma. Guarda che trucco. Ferma. Aspetta, cancello. No. Cancello a te. Guarda, se io faccio. Cance. No. Cance. No. Perché? Se io faccio così, guarda, amore, guarda sta cosa qua. Sono messe lì, io le voglio mettere al centro. Schiaccio questo e le metto al centro. Ok? Ma lì nel centro, non sapeva che si faceva. Adesso guarda, non so che si sapeva. Adesso usiamo sto tastino qua. Guarda, vedi sto tastino qua? Qua è no. Questo qua. Ah, te lo sì. La è strana. Eh. E lui mi fa la somma subito, hai visto? Mi avvazzo, io schiaccio qua. Vedi, mi scrive. Mi scrive somma tra questo e questo. Capito? Perché D3 e D9? Perché questa è la cella D3 e questa è la D3. Mi somma tutti i numeri tra la cella D3 e la cella D9. Capito? Mi fai te. Ah, devo fare un'ordine. Mi fai dietro. Sì, fermo. Aspetta che ti cancello tutto. Sì, prima li selezioni. No, anche solo i numeri, non i giorni. Ma non è il genere. Eh, ma te l'ha già fatto? Vabbè. No, ferma. Ferma un attimo. L'ha già fatto perché sono una monocchila che ha bombe. Vai, dai. Seleziona solo i numeri. No, la X. Non le stranze. Non l'ho selezionato. No, ma... Vabbè. Ok. Ferma, ferma. Ok. Aspetta, aspetta. Mettilo al centro. Ti lo so. È boh? No, io non lo so. 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 Che fai? Non lo metti al centro? Che faccio? Ma cancella quelli che non servono. No. Non lo dico utile. No. Dai, rifai, rifai. Cancella questi ultimi. Cancella questi. Aspetta. Io non mi devo aspettare. Ok, dai. Selezioni questi e poi fai somma. Vai. Aspetta. Ok. Adesso fai la somma. Vai. bravo. Ok, fermati. Adesso cancella l'immagine. Cancella l'immagine. Cancella l'immagine. Cancio. Cancio, cancio. La tua. No, non lo fa canciare. Allora, adesso guarda. Guarda cosa faccio io. Poi lo devi fare te. Seleziono questi qua. Poi faccio. Inserisci. Inserisci. Adesso posso scegliere il grafico. Vedi che posso scegliere il grafico? Questo ovviamente. Quale grafico vuoi scegliere? Ma che? Faccio io. Questo. Annulla. Aspetta, annulla. C'è di te un grafico? Ma l'avevo scelto. Ok. E lui ti fai, visto che bello, ti fa già il grafico con il numero delle macchine e i mesi. Capito? E se lo devo fare, prima devo fare la messa dell'immagine e poi me lo dà. Non è che glielo faccio. Eh, però è più bello questo o quello che hai fatto nel tuo quaderno? Beh, quello del mio quaderno. Ma sei tutto un pasticcio. Hai visto come si fa fare veloce un grafico? Eh? Sì. Quindi qua c'è il valore Y. Vediamo se riusciamo a cambiare il valore X. Questo non sono capace tanto a farlo. Aspetta, ferma. Possiamo cambiare anche gli assi. Guarda, se io clicco qui... Dove? Non vedo. Clicco... Proprio mi sposti? Ferma, ferma. Io clicco qui... Sì, va. E faccio tasto destro... Mi dice formato asse. Andiamo su formato asse. Riggissima. Mio... E... Perfetto, eh? Fima la caponda. Dai, giù. Fima la caponda. 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 Eh vabbè, non sono capito, adesso mi sto perdendo. Eh beh, ti direi, io... Aspetta, aspetta. Guarda, una scheletta da tenere. Ah, guarda, ecco, ecco, guarda. Guarda. Vedi la data qua, vedi che puoi mettere la data anche? Papi, ma lo sai che in Harry Potter, sai che il nuovo press l'hanno usato alla radio di Ron, quella che ha usato alla radio? Eh, cosa è successo al nuovo press? Ah, è Piton, il nuovo preside è Piton. Ah, è Piton, il nuovo preside di Harry Potter. Vabbè. Ho nominato Zer. Allora, quindi, vedi, così possiamo fare il grafico, ok? Quindi abbiamo visto un po' di funzioni di Excel, eh? Puoi fare tante altre cose con Excel, ok? Eh, praticamente, ti serve per fare... Ho più del tutto, non mi devi dire per forza. Io, io tipo, non ti vedo. Ma mi vedi? Sì, ti vedo, però che ti ho sfruttato del tutto, così non ti vedo. E poi lo vedete con me. Ma tu cosa vedi adesso? Allora. Cosa vedi? Lo vedi il grafico sul tuo computer? Sì, sono mai stato in mezzo del grafico. Adesso vediamo di fare un'altra cosa. Cancelliamo questo grafico qui. Lasciamo il grafico e facciamo un nuovo foglio di lavoro. Quindi giriamo pagina. Per girare pagina faccio qua. Più. Io lo so qua. Ma vabbè, già sai tutto. Quindi se tu guardi indietro c'è il nostro conto. Adesso facciamo... No, aspetta, vuoi sapere come faccio? Perché io pensavo che facessi zoom e andassi indietro con il mio. No, vedi? Se aggiungo più, mi aggiungi un'altra pagina di quaderno. Certo. Io qui posso fare due clic e scrivo il nome grafico. E se invece facciamo il nuovo foglio di lavoro è Pitagora. Pita. Dai, non fai una scema. Pitagora. Adesso facciamo... No, no, pita. Scriviamo cateto. Odio Excel, odio Excel. Guarda, guarda. Cateto. Qui scriviamo cateto. Qua scriviamo ipotenusa. Scrivite ipotenusa. Scrivi. Ipotenusa. Lusa. No. Dai. No, no, le noreste. Tu sposti. Amore. Torno indietro così. Allora, per entrare nella cellula e scrivere nella cella, devi dare due clic, capito? Due clic. Se dai un clic solo non puoi scrivere. Fermo, fermo. Vai due clic, due clic. Ok. Vi devo la notte. Dai. Ipotenusa. Ipotenusa. Ce la fai a metterlo a maiuscolo? Allarga un po' la cella, allargalo un po'. Aspetta. Ma no, amore. Allarga un po' la cella, ok. Eh no. Io odio questo, non lo so dare. Ma no, amore, è la prima volta. Vai qui e l'allarghi. Quando diventa due clic? Schiacci e allarghi. Prova a te. Faccio io, sì. Prova a te. Su, su, vicino a te devi andare. Ti faccio, ecco lì, ecco lì, vai, schiaccia e allarghi. Brava, non troppo. Ok, allargato. Allora, ti faccio vedere un trucco. Ti faccio vedere un trucco. Se tu ti metti qua, schiacci due volte veloce, lui si allarmi automaticamente la misura migliore. Capito? Prova a te. Ma io schiacci due volte tutto qua? No, devi andare qui, devi andare qui e schiacciare due volte veloce. Vai. Aspetta, guarda, ho la tua precetta, dov'è? Allora, l'abbiamo condivita. Vai. Hai fatto qua? No, guarda, devi andare qui e schiacciare due volte. Vai. Tu, sì. Muovi il mouse. Vai, 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 ecco lì, no. No, 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 più sul, non devi andare, no. Non ci vedo io, devi andare qua. Vai, vai lì e schiacciare due volte. Io non vedo. Cosa? Non vedo, dov'è la tua precetta? La vedi, la vedi? La mia precetta? Muovila. La sto muovendo. Eh no, non la vedo. Non la vedi? Tu vedi la mia che si muove? Muovila un po'? Sì che la vedo. Io non vedo la tua. Va. Deve andare qui all'incrocio tra la D e la E in alto. Tra la D e la E schiacciare due volte e lui te la... Va bene. Devo scrivere area e perimetro, dai. Area e perimetro, vai. Ok. La più guarda che non abbiamo niente da fare di Pitagora, lo sai. Cosa? Non abbiamo niente da fare di Pitagora, lo sai. Ascolta, adesso fermati. Adesso qua, scrivi un valore qualunque, dai. Ecco, l'altro cateto ha un altro valore qualunque. Ok. Adesso per l'area, guarda come si fa, ti faccio vedere io. Vai sull'area, schiacci due volte, poi scrivi uguale, devi fare così proprio, uguale, shift uguale. Poi scrivi, guarda via, clicchi su questo, poi per, e poi clicchi su questo, e poi fai diviso due, eh? E lui in automatico ti fa l'area, ok? Però guarda la cosa interessante, se io scrivo altri numeri, ferma, non devi scrivere lettere. Se io faccio così, poi di qua, guardami, quattro ascino in giù, lui mi fa automaticamente tutte le aree, ok? Vediamo l'area che usa. Fermo, 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 fermo! Sì, voglio. Uguale! Aspetta, fermo, fermo, voglio cambiare questo, non mi piace. Troppo lungo. Facciamo 21. E questo è, eh, deve essere il piccolo dell'ipotenusa, allora 11. Poi seleziono questi. No, no, 11 alla volta, vado su per il mio. No, per il mio, dobbiamo farlo ancora, no, amore, aspetta, l'ipotenusa dobbiamo calcolarla ancora, aspetta. Dobbiamo usare Pitagora, guarda, fai, ipotenusa uguale. Ferma! Allora, innanzitutto qua dobbiamo mettere, ascoltami, dobbiamo mettere la formula della radice quadrata e quindi dobbiamo andare a cercare, non so qual è la formula della radice. Vai a cercare la formula. Aspetta, 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 aspetta. Ma formula la radice quadrata oppure solo la radice quadrata? No, vai, dov'è che ci cerca qua? Aspetta, eh. Sarà sulle formule, qua. Su Google. No, devi andare qui, no! Vai qua, inserisci funzioni, schiacci e scrivi. Radice quadrata, scrivi, qua scrivi, radice quadrata. Vai. Dai! Ma che è? Ti ho scelto, non so che hai perso, non ho scelto, vai. Vabbè. Ma niente, devi scrivere, scusate, solo radice, radice. Qui non sono io, radice. No, ma non ho scelto, non ho scelto, ma non c'è problema. Faccio io. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma fermo, faccio io. Fermo! Ma no, amore, ferma! Guarda! Ah, va bene. Vai! Ok, arriviamo subito. Ecco, radice quadrata. Aspetta, aspetta, vediamo un po'. Ci sono diverse. Restituisce la radice quadrata di un numero? No. Questo che è? Fermo! No, no, col pi greco. Niente. Restituisce la radice quadrata. Allora, facciamo questa, ok? Allora, mettiamo ok. Lui mi fa la formula qua. Dentro cosa dobbiamo mettergli? Guarda, eh. Faccio io. Faccio io, aspetta qui. No, 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 faccio io, aspetta. Ferma! Ah, guarda, c'è quella di 21, di 21. Ma no, amore, ferma, faccio io. Diamo gli ok, poi ti faccio vedere, eh. Mettiamogli un numero qualunque e poi diamogli ok. Ok, ce l'ha messa qua. A me non va bene. Io prendo questa, la metto qua. Poi, schiaccio due volte. Io qua cosa devo fare? Per calcorare. Aspetta, guarda. Cateto. Più. Cateto al quadrato, quindi cateto per, non più, cateto per cateto più. Oh, l'ho fatto io o no? Più. No, aspetta, devi fare no. Il cateto al quadrato, non cateto per l'altro. Cateto per il cateto due volte più. L'altro cateto per l'altro cateto, ok? E poi per confermare la formula vado qua. La vedi la mia freccetta dove compare invio? Eh, non so dove sei invio perché non vedo la tua freccetta, però solo la mia. Ah, peccato. Eh, dobbiamo condividere sul mio. Quindi calcola l'ipotevista. Ok, noi adesso condividiamo sul tuo. Sì, beh, lo facciamo, tanto lo rifacciamo questa roba qua. C'ha troppe cifre significative, le accorciamo, guarda. Basta, ti riguarda le password. No, aspetta. Sì, è sul tuo o sul mio, ancora non ho capito. E poi basta, ci dobbiamo salutare. Guarda, guarda ancora adesso. Accorciamo le cifre significative andando qua. Ok? Adesso facciamo il perimetro, fallo tu il perimetro. Il perimetro scrive uguale. Schiaccia due volte qua. Scrivi uguale. Adesso fai, cliccati, più, scrivi più. E dov'è? Il più è sopra, è vicino, è sopra la U, è sopra la U con l'accento. Vicino al tasto invio. No, è sopra la U con l'accento del TV1S strana. Vicino al tasto invio. Sì, eccola, eccola. È proprio che faccia prenderla. No, il più, schiaccia, eccola lì, brava. Poi vai e clicchi sopra il cateto 2. Clicca sopra il cateto 2 con le... Clicca qua, clicca. Ok? Più. Clicca sopra il cateto 3. Ok, adesso fai invio. No, basta. Basta più. No, perché è sbagliata. Sì. Ok. Adesso, tu praticamente, adesso fai così. Trascina giù di qua. Trascina giù anche per il perimetro. Dai, trascina giù. No, devi prendere... Ok, ho capito, faccio io, faccio io. Non ho capito. Prendi... No! Ho capito, quindi va, ma non me lo va bene. Nulla, 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 perché hai fatto un casino. Allora, dai, prendi lì e clicca giù, vai. No! Hai fatto due clic, ferma! Ho fatto due clic. Allora, devi andare qui, clicca giù. Allora, devi andare qui. Poi clicchi qui e vai giù. Adesso, tu, per ogni triangolo, se devi fare un problema, vai qua. Ti dici, quanto vale il cateto? Dai, dimmi un cateto. Tre. Quattro. Aspetta, un cateto vale 15. Qui l'ipotenusa non la fa sbagliata. Aspetta, che mi fa un errore sull'ipotenusa. Ferma. E' che? Eh sì. E' certo che mi fa l'ipotenusa. Spera. Ok, quindi, vedi? Lui mi calcola, velocemente, per ogni triangolo. Metti, metti due dati qua. Dai, metti un cateto, vai. Un 15, vai. L'altro cateto quanto vale? Dai, metti il valore dell'altro cateto. Aspetta. Tre, aspetta. Ok, vai. Invio. Schiaccia, invio? Ok. Lui ti fa Ipotenusa, Aria e Perimetro. Hai visto che veloce? Sì. Ti è piaciuto? Sì, dai. Salviamo. Quindi, aspetta, salva e basta. Oggi basta così. domani lo vediamo condiviso sul tuo, ok? No, no, vabbè, no. Però potevo fare qualcosa anche di matematica. Adesso? Dopo, un pomeriggio. Sì, va bene. Aspetta. Guarda, ti faccio vedere la lezione, eh. Spermiamo.